Dragaggio l'area del molo Fornelli viene sequestrata nuovamente soddisfazione di lega ambiente sequestro policardo per la procura di Roma non sono state rispettate le misure di sicurezza adeguate sei indagati Orlando ci mette la faccia e si candida per le primarie alla segreteria del PD per la sfida con Emiliano e Renzi peperoni e pesticidi l'ARPAL scova 13 tipi di sostanze diverse su un campione analizzato alla spezia proveniente dall'Egitto parco mezzi più ecologico per il comune mori annuncia pass gratuiti per chi utilizza automobili elettriche Buonasera buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS giornale apriamo con la cronaca nuovo sequestro per il cantiere del Dragaggio del Porto Spezzino stamani il gruppo carabinieri forestale della Spezia e della Capitaneria di Porto facendo seguito all'annullamento da parte della Corte di Cassazione del dissequestro a suo tempo disposto dal Tribunale del Riesame hanno provveduto a sequestrare nuovamente l'area antistante il Molo Fornelli vediamo il servizio di Laura Ivani sono stati i carabinieri e la Capitaneria di Porto a porre nuovamente i sigilli al cantiere dei lavori di Dragaggio del Porto Spezzino nell'ambito delle indagini per inquinamento ambientale disposte dalla Procura Un anno fa la magistratura aveva disposto un primo sequestro dell'area antistante Molo Fornelli ritenendo che le attività di Dragaggio avessero provocato un deterioramento e una compromissione delle acque del Golfo L'attività di Dragaggio prevedeva l'utilizzo di panne ancorate al fondo ma secondo quanto constatato dalla magistratura l'ancoraggio non sarebbe mai avvenuto determinando così un'importante fuoriuscita di fanghi fanghi che secondo i muscolai sarebbero la causa della sospetta moria di mitili che si registrò durante il 2015 Il riesame aveva annullato il primo sequestro preventivo decisione annullata a novembre dalla Cassazione da qui il nuovo sequestro Un provvedimento atteso che conferma le tesi della Procura ha commentato Lega Ambiente della Spezia che nella primavera del 2015 presentò un esposto alla Procura della Spezia con l'ipotesi di disastro ambientale Siamo confortati dall'azione della Procura che ora, continua la nota di Lega Ambiente potrà completare con la dovuta accuratezza e serenità le indagini relative alla fuoriuscita di fango durante il dragaggio Lega Ambiente ha annunciato un approfondimento sul tema con i propri consulenti Parliamo ancora di cronaca Una 35enne è stata denunciata per ricettazione ed è stata raggiunta anche dal foglio di via obbligatorio emesso dal questore della Spezia La donna romena è stata identificata ieri in piazza Jürgens a Sarzana con altri tre connazionali appena scesi dal treno che con fare il sospetto poi si aggiravano tra i veicoli parcheggiati La donna che ha mostrato segni di nervosismo è stata trovata in possesso di un iPhone 6 risultato rubato nei giorni addietro ad un giovane Le persone che erano con lei sono state portate in commissariato per l'identificazione La 35enne invece è denunciata e colpita dall'ordine emesso dal questore E rimaniamo ancora in tema di cronaca è stata la schiuma dei vigili del fuoco a mettere fini all'incendio divampato a bordo di un camion con rimorchio sulla 12 questa mattina alle 9 in direzione Genova Il mezzo che trasportava residui di lavorazione si è accostato immediatamente sulla corsia di emergenza e quindi l'autista ha sganciato la motrice dal rimorchio preservando e mettendo in sicurezza il mezzo stesso Appena giunta sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto ad un primo spegnimento utilizzando una miscela di schiume estinguenti Il sequestro in Libia dei quattro tecnici della Bonati di Parma poteva essere evitato se fossero state adottate idonee misure di sicurezza da parte dell'azienda Di ciò è convinta la Procura di Roma che ha chiuso l'inchiesta nei confronti di sei indagati tutti della società parmense Abbiamo sentito al telefono Gino Policardo il tecnico di Monterosso che fu rapito assieme a tre compagni di lavoro il 19 luglio del 2015 Ce ne parla Laura Ivani Il sequestro in Libia il 19 luglio 2015 di quattro tecnici della Bonatti sfociato il 2 marzo 2016 nella morte di Salvatore Faille e Fausto Piano poteva essere evitato se fossero state adottate idonee misure di sicurezza dall'azienda Lo pensa la Procura di Roma che ha chiuso l'inchiesta per i sei indagati della società parmense cui era dipendente anche il monterossino Gino Policardo Cooperazione colposa nel delitto doloso il reato contestato dal PM Sergio Colaiocco La notizia dell'avviso di chiusura dell'indagine che di solito anticipa la richiesta di rinvio a giudizio non sorprende Policardo che lo considera un atto dovuto Ma diciamo io dal punto di vista della notizia sì mi trova diciamo non impreparato perché io come ho già detto altre volte so che la Bonatti comunque ha la responsabilità di quanto è avvenuto almeno per quello che riguarda il rapimento del resto come avevo già detto in altre occasioni la Bonatti aveva cambiato la modalità di trasporto e quant'altro e quindi ovviamente diciamo non è una cosa che non penso che sia una cosa dovuta Secondo l'accusa i sei indagati avrebbero omesso di adottare le cautele necessarie per evitare che i tecnici fossero esposti alle bande criminali Ma probabilmente forse fosse avvenuto il trasporto come era stato come doveva essere come era stato indicato allottando appunto la misura di sicurezza di fare il trasporto via mare probabilmente probabilmente dico probabilmente perché non non è nulla di sicuro questo non sarebbe avvenuto Un processo ha detto Gino Policardo che non restituirà però i due colleghi che furono uccisi durante gli ultimi giorni del sequestro Ritengo la responsabilità della società per quanto riguarda il rapimento ma la responsabilità per quello che è avvenuto nei 228 giorni e per come è finita la vicenda soprattutto dello Stato il quale tra l'altro ci ha abbandonati completamente non solo per 228 giorni là ma anche per tutti i mesi a seguire quando siamo tornati che non abbiamo mai più risentito e non si sono mai più fatti vivi E ora un'altra notizia di cronaca è stata l'Arpal della Spezia il cui laboratorio è specializzato in pesticidi ad analizzare un carico di peperoni arrivato nel porto di Genova in cui sono stati scovati 13 tipi di pesticidi differenti si tratta di una partita di peperoni in arrivo dall'Egitto nel referto emerge come tre dei principi rilevati erano oltre i limiti previsti dalla normativa con valori addirittura di 50 volte superiori al consentito non era mai capitato un campione con la presenza di così tante sostanze tutte insieme ha detto Nicola dell'amico del laboratorio Spezzino anche l'entità dei superamenti è particolarmente significativa Cambiamo argomento e parliamo di turismo Porto Venere piace sempre di più anche fuori stagione a marzo 2016 più 116% di turisti più 30% a febbraio più 26% a gennaio positivo anche gennaio 2017 con più 33% di presenze è quanto emerge dai dati dell'osservatorio turistico regionale i dati sono stati resi noti oggi in una conferenza con il sindaco Matteo Cozzani e l'assessore al turismo della regione Liguria Gianni Berrino nel 2016 sono aumentati del 10,72% gli arrivi 46.000 circa segno più anche per le presenze 12,62% che hanno superato la quota record di 102.000 per notamenti oltre 11.000 in più rispetto al 2015 in crescita il numero dei visitatori stranieri più 9% così come gli italiani più 18,6% il 2016 è stato un anno importante per la regione con il record di 15 milioni di presenze ha ricordato Berrino anche Porto Venere ha fatto la propria parte la sfida è quella di mantenere il trend anche nella destagionalizzazione chi ha scelto Porto Venere lo ha fatto non solo per il mare ha detto il primo cittadino il nostro territorio è sempre più competitivo sui mercati esteri e torna a crescere nel mercato interno parliamo di politica anche il ministro della giustizia Andrea Orlando si candida alle primarie del PD Orlando lo ha formalizzato oggi la sua candidatura era nell'area da giorni Orlando potrebbe quindi scontrarsi con l'ex segretario del PD Matteo Renzi e il governatore della regione Puglia Michele Emiliano ho deciso di candidarmi ha detto perché credo e non mi rassegno al fatto che la politica debba diventare solo prepotenza il ministro originario della nostra città Ribadito ha deciso di farlo perché credo che ci voglia responsabilità e credo che il PD debba cambiare profondamente per poter essere davvero utile all'Italia e ai problemi degli italiani noi dobbiamo rifare il PD che abbiamo sognato dieci anni fa e dobbiamo lavorare per evitare che la politica diventi soltanto risse, conflitti e scontri tra personalità siamo contenti che Orlando voglia candidarsi alla segreteria nazionale del PD scrivono i consiglieri regionali del PD Raffaella Paeta e Pippo Rossetti sarà sicuramente una bella sfida abbiamo letto che il ministro della giustizia scende in campo per rappresentare un punto di vista diverso all'interno del Partito Democratico bene sarà l'occasione per spiegare a tutti in cosa consista questa diversità visto che negli ultimi anni ha sempre votato con Renzi stanno nel suo governo senza mai distinguersi parliamo ancora di politica perché domani sera il sindaco della Spezia Massimo Federici sarà ospite del salotto del signor Rossi per fare il punto sui suoi dieci anni di amministrazione per guardare il futuro della città insieme a Fausto Rossi il capo servizio del secolo XIX Paolo Ardito e della nazione Anna Pucci vediamo una breve anticipazione la candidatura annunciata proprio oggi di Orlando alla segreteria nazionale è un elemento positivo in questo senso o è un influente? ma non credo che si incroceranno molto le due cose perché quella necessità a livello di prestigio ecco diciamo un spezzino questo può avere una ricaduta però non c'è un riflesso diretto non mi pare che ci possa essere un riflesso diretto sono partite diverse che si giocano su piani diversi non vedo come potrebbero intrecciarsi certo un nome importante come quello di Orlando che si candida dalla segreteria nazionale è un riflesso direi in positivo ecco lo può sicuramente avere primarie sì o no? accantonate perché lì voi sostenevate cioè lei ha sempre sostenuto la necessità di fare le primarie mi sembra mentre per esempio Orlando dice che non è il caso ecco che bisogna arrivare è aperta anche questa discussione oppure è già accantonata? ripeto è ancora aperta nel senso che se si individua una figura che sia una figura sufficientemente condivisa e ripeto una figura di questo tipo non può essere interna ai partiti deve essere una figura esterna un cosiddetto indipendente espressione della società civile una figura autorevole ecco che metta d'accordo un po' tutte quante le anime e che aiuti anche a creare le condizioni per uno sviluppo della coalizione se si riesce a convergere su questa ipotesi evitiamo come dire possiamo possiamo anche come dire evitare il passaggio delle primarie altrimenti le primarie sono un metodo giusto più serio anche di selezione delle candidature non ci sono dubbi il riparto del fondo sanitario approvato in conferenza delle regioni premi al buon lavoro della nostra amministrazione lo ha dichiarato il presidente della regione Liguria Giovanni Totti che ha partecipato alla conferenza Stato-Regioni insieme alla vicepresidente assessora alla sanità Sonia Viale dove si parlava di una ripartizione del fondo sanitario nazionale 2017 alla Liguria sono stati assegnati 3,53 miliardi 8,9 milioni in più rispetto alla ripartizione del 2016 Baglietto storico Cantiere della Spezia annuncia la vendita del baglietto 46 M Fast a un armatore dell'area mediterranea l'imbarcazione di 46 metri presentata in anteprima mondiale agli ultimi saloni di Cannes e Monaco avrà il nome di Lucky Me questa vendita è per noi motivo di grande soddisfazione afferma Michele Gavino un managing director di Baglietto che premia la professionalità di tutto il team Cambiamo argomento il parco mezzi del comune della Spezia si rinnova e lo fa in un'ottica smart con la collaborazione di Enel presentate questa mattina in piazza Europa le nuove auto e le bici elettriche i dettagli sono nel servizio di Serena Enrico e Davide Morina si rinnova il parco mezzi del comune della Spezia una iniziativa resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra proprio l'amministrazione comunale ed Enel questa mattina sempre in occasione dei programmi delle iniziative dedicati alla smart city alla sfida del cambiamento climatico sono state presentate le nuove auto e bici elettriche che andranno a potenziare la flotta comunale l'amministrazione si nota di nuove biciclette elettriche ma non solo perché il tradizionale bike sharing sarà proprio integrato dalle bici elettriche con un collegamento che porterà fino a Lerici sì è un bando a cui partecipiamo un bando di amministrazione dell'ambiente per il comune della Spezia vale circa 800.000 euro e un paio di 100.000 per il comune di Lerici quindi due comuni frontalieri anche se guidati da amministrazioni diverse che parlano dialogano concorrono assieme a costruire bandi riservati a comuni con abitanti superiori a 100.000 abitanti in questo bando andremo a integrare il bike sharing tradizionale e aggiungere al bike sharing tradizionale anche il bike sharing elettrico ci saranno una serie di postazioni elettriche in prossimità del confine di Lerici in modo tale da poter raggiungere le altre stazioni che sono a Lerici e avere un collegamento di biciclette elettriche di stazioni elettriche fra Lerici e Spezia un'altra delle idee è quella di agevolare chi utilizza il mezzo elettrico abbiamo pensato già nelle prossime settimane di progettare una delibera che assolva dal pagamento del parcheggio tutti i proprietari di auto elettriche ovvero una sorta di pass che permetta l'utilizzo della sosta a pagamento a gratis quindi gratuitamente a tutti coloro che hanno macchine elettriche l'inquinamento del traffico rappresenta sicuramente una percentuale rilevante rispetto alle emissioni totali ecco perché è importante investire in qualche modo promuovere questi mezzi a basso impatto anche nella nostra città secondo il piano energetico quindi l'analisi energetica che abbiamo fatto sul nostro territorio il traffico incide per il 30% sia a livello di emissioni inquinanti che a livello di emissioni climalteranti cioè della CO2 quindi è una grossa fetta anche questo anche traffico cittadino investire sulla mobilità sostenibile e quindi sui mezzi elettrici è un impegno di tutti non solo nostro ma di tutto il paese e credo che questo verrà fatto nei prossimi anni è l'idea della mobilità futura su cui anche le aziende automobilistiche si stanno attrezzando per non perdere il treno di questo e degli altri appuntamenti dedicati alla settimana della Smart City se ne parlerà questa sera durante la trasmissione della Spezia News in ora alle 21 condotta da Selene Ricco e Davide Morina a cosa serve aver speso solo recentemente ben 80 mila euro di telecamere che si sommano ai soldi investiti già nel passato se poi nessuno le guarda in tempo reale così dichiara il consigliere comunale dei Fratelli d'Italia Maria Grazia Fria in merito a un atto vandalico avvenuto recentemente nelle fontane di Piazza Verdi episodio su cui ancora si sta indagando porterò l'attenzione del consiglio comunale alla proposta di istituire una cabina di regia per il controllo del sistema di video sorveglianza presente sul territorio cittadino la sicurezza oggi è un'esigenza reale anche per gli spezzini questo tema non può che essere un mio obiettivo alle prossime elezioni politiche conclude Fria l'iniziativa portata avanti dalla Camera del Lavoro della Spezia va nella direzione corretta lo ha dichiarato l'assessore al turismo e al lavoro del Comune della Spezia Luca Erba che continua in vista delle elezioni dobbiamo avere la capacità di fare una sintesi programmatica per dare risposte chiare auspico che il PD risponda positivamente all'invito portato avanti dalla CGL il dottor Stefano Berti direttore di chirurgia generale del Sant'Andrea è fra i 16 specialisti di un clinical advisory board l'incontro tenutosi a Milano ha avuto come obiettivo promuovere una corretta formazione dei chirurghi e di conseguenza migliorare le loro abilità nell'utilizzo delle tecniche chirurgiche chirurgia generale di ASLE 5 è uno dei pochi centri che saranno chiamati a fornire indicazioni sul miglior percorso da seguire nella formazione per l'apprendimento della chirurgia mini-invasiva il laboratorio a sinistra organizza raccontami la tua spezia per sabato 25 febbraio in piazza del mercato a partire dalle 10.30 il secondo appuntamento si svolgerà il giorno seguente in piazza Brina dalle 16.30 in poi sarà presente Alice Parodi del coordinamento laboratorio a sinistra taglio del nastro oggi pomeriggio per l'ampliamento della serie di formi di formi impresa ente di formazione che fa capo alle tre associazioni CNA Confartigianato e Confcommercio l'inaugurazione alla presenza dell'assessore regionale al lavoro Berrino la nuova sala è stata dedicata alla memoria dello storico presidente Alfredo Totti vediamo il servizio di Italo Lundi inaugurato questo pomeriggio alla presenza dell'assessore al lavoro della regione Liguria Giovanni Berrino e con la benedizione impartita dal parroco Don Luigi Vigini l'ampliamento della sede di forma impresa intitolandola ad Alfredo Totti storica figura dell'artigianato spezzino apprezzato e stimato in città a ricordare la figura di Alfredo Totti a poco più di due anni dalla sua scomparsa Paolo Figoli presidente della Confartigianato e successore di Alfredo Totti alla guida dell'associazione Angelo Matellini segretario Ligure della CNA e Roberto Martini direttore di Confcommercio tre associazioni che hanno dato vita all'ente di formazione primo intervento della cerimonia della presidente della CNA della Spezia e di forma impresa Federica Maggiani Sì come abbiamo avuto modo di dire poco fa questo nuovo centro di formazione per il lavoro che incrocia la domanda tra l'offerta di lavoro e la richiesta e vuole avere anche un occhio sulla formazione non poteva che essere dedicato da forma impresa al presidente il presidente con la P maiuscola Alfredo Totti che è stato presidente di tutti e che chi ha avuto modo di conoscere ha potuto apprezzare le sue caratteristiche umane più profonde il direttore di forma impresa Lelio Tognoli ha tracciato le linee di lavoro dell'ente di formazione l'impegno a costituire il job center e ad avviare la sperimentazione di un software in grado di interloquire con il sistema regionale per l'intreccio della domanda e offerta di lavoro per fornire un servizio alle imprese fornendo personale adeguato e dai giovani che possono se determinati se sufficientemente preparati trovare una collocazione nel mondo del lavoro e quelli che sono determinati ma non hanno ancora le conoscenze per poter operare cercheremo di fornigliere noi le conclusioni dell'assessore Giovanni Berrino con l'assessore Cavo abbiamo lanciato ormai da più di un anno questa stretta collaborazione tra la formazione e il lavoro pensando che sia determinante che ciò che viene investito nella formazione vada subito a poter andare incontro alle esigenze delle future assunzioni e quindi un ente di formazione che si pone anche questo obiettivo di mettere in rete la domanda e l'offerta proprio per centrare al meglio la formazione necessaria al lavoro di domani benvenga che collabori e che dialoghi anche con la regione Liguria tra il suo sito formazione e lavoro che proprio ha la ricerca di dati per poter indirizzare la formazione dei prossimi mesi dei prossimi anni verso quelle che saranno le esigenze di occupazione naturalmente tutto in una sola sede dedicata a una persona importante come Alfredo Totti per forma impresa quindi un in bocca al lupo per il lavoro futuro certo che la collaborazione anche di questo ente di formazione sarà molto importante per la formazione e l'occupazione in Liguria al termine della celebrazione un omaggio floreale alla signora Maria Vittoria Bacigalupi vedova del compianto presidente Totti Economia circolare blue economy costruzioni smart e riconversione in strutture industriali verso un business rigenerativo questo è il titolo della tavola rotonda che si terrà mercoledì 1 marzo alle 18 in sala Pozzoli nella sede di Confindustria alla Spezia con la realizzazione di questo convegno i giovani imprenditori di Confindustria il gruppo Fai Giovani della Spezia rinnovano per il secondo anno consecutivo la collaborazione sui temi dello sviluppo ecosostenibile e dell'economia circolare partnership che si arricchisce per la prima volta anche della presenza del gruppo Giovani di Ance Associazione Nazionale Costruttori Edili domani venerdì 24 febbraio il comitato Change sbarca alla Spezia con la prima tappa fuori Genova della fondazione del presidente della regione Liguria Giovanni Totti sono 130 i partecipanti abbiamo scelto la Spezia perché è una piazza importante che ha bisogno di un cambio di passo ha detto il governatore Liguria Giovanni Totti l'appuntamento è previsto per le 20 e 30 al ristorante La Rada di Portolotti L'amministrazione comunale di Levanto sollecita le associazioni che intendono organizzare eventi nel periodo estivo a presentare le relative documentazioni al comune entro il 28 febbraio il materiale dovrà essere presentato all'ufficio protocollo del comune Mediterraneo diviso prove di dialogo il ciclo di incontri dell'associazione Mediterraneo si arricchisce di un altro evento all'insegna del confronto l'appuntamento è per il 24 febbraio nella biblioteca del liceo Costa e si intitola Migrazioni Africa Medio Oriente le sfide dell'Europa ce ne ha parlato il presidente di Mediterraneo Giorgio Pagano nell'intervista di Laura Ivani Mediterraneo diviso prove di dialogo è questo il tema di un doppio incontro che si terrà domani alla Spezia prima al liceo Costa e poi nel pomeriggio al centro Allende ecco chi saranno i relatori di questi incontri e insomma svisceriamo un po' anche il tema del dialogo sì questo incontro accoglierà tre esperti a San Busetta musulmano dell'Università di Liegi Nicola Pede esperto di geopolitica e Michele Zanzucchi cattolico direttore di Città Nuova ecco questo incontro vuole essere una prova di dialogo nel senso che vuole aprire uno spazio di confronto di elaborazione di una comprensione condivisa di una tematica che ci tocca direi quotidianamente come quella delle migrazioni per trovare una linea di riflessione che possa essere comune proprio perché non abbiamo risposte già date sulla questione nel sottotitolo diciamo così dell'incontro si parla delle sfide dell'Europa ecco che ruolo dovrà giocare l'Europa nel presente ma anche nel prossimo futuro l'Europa è lo spazio culturale e politico ideale per il dialogo tra le due sponde qui si gioca davvero il futuro dell'Europa altrimenti ci sarà la sua decomposizione diciamo e naturalmente il punto politico e culturale che è al centro della nostra iniziativa è quello della garanzia come dice il Papa del diritto di restare e del diritto di migrare c'è il diritto di restare per cui l'Europa deve fare la cooperazione deve aiutare l'Africa e il Medio Oriente ad avere un suo sviluppo non uno sviluppo di rapina neocoloniale ma un suo autonomo sviluppo per garantire il diritto di restare però c'è anche il diritto di migrare per chi non ha nulla per chi non ha la casa per chi soffre la fame la violenza la guerra in questo caso l'Europa deve accogliere deve accogliere quindi abbiamo il dovere anche dell'accoglienza e questo non va messo in contraposizione con i nostri poveri perché dobbiamo batterci per i diritti di tutti e il lavoro va trovato per tutti per noi e per loro 10.000 euro da destinare al comune terremotato di Acqua Santa Terme è la somma raccolta dai metalmecanici della FIMCISL Liguria in collaborazione con la CISL di Genova nell'evento tenutosi lo scorso ottobre al quale hanno partecipato oltre 500 persone la somma raccolta verrà consegnata al sindaco di Acqua Santa Terme nei prossimi giorni Arcola in Lirica riprenderanno lunedì 6 marzo gli appuntamenti con la musica nel borgo Arcolano gli incontri conferenze si terranno ogni lunedì del mese alle 21 nella sala Polivalente in piazza 2 Giugno vediamo il servizio di Selene Ricco le immagini sono di Davide Morina Arcola in Lirica siamo arrivati alla terza edizione a testimonianza di questo progetto come si sia consolidato nel tempo ecco ricordiamo un po' come è nato come era alle origini e in che cosa si è trasformato oggi questo progetto è nato una sera giusto di 3 anni fa quasi per scherzo fra un incontro che io ho avuto con il con l'assessore alla cultura del comune di Arcol eravamo a Trebbiano e si parlava di come valorizzare il borgo e a me era venuta l'idea di trovare un sistema per fare di Trebbiano un paese della musica perché Trebbiano è un bel borgo è un borgo antico veramente che varrebbe la pena di valorizzare e di farne un borgo della musica per avere un punto di riferimento chiaramente poi da quella cosa che era un pochettino irrealizzabile perché quello che avrei pensato io era molto più importante ci siamo messi d'accordo e sono nate queste conferenze e parlando proprio di questi incontri incontri conferenze partiranno da lunedì 6 marzo appuntamento quindi ogni lunedì alle 21 nella sala Polivalente in piazza 2 Giugna d'Arcola quale sarà un po' il programma? il programma è quanto mai vario rispetto agli altri anni ci siamo soffermati meno sull'opera nel particolare ed abbiamo spaziato un pochino di più anche su tutto quello che fa da contorno all'opera lirica la cosa interessante di quest'anno è che come già avevamo iniziato a fare l'anno scorso oltre alla presenza di appassionati di musica di opera lirica e in generale diciamo di cultura legata a questo tipo di tematiche abbiamo la presenza di professori maestri di grande di grande importanza nel panorama nazionale un programma che merita sicuramente un'iniziativa di livello motivo per cui si vuole tentare di allargare un po' il pubblico il bacino di presenti a queste conferenze non solo agli arcolani ma l'invito è rivolto davvero a tutti sì diciamo che l'ambizione del comune di Arcola nel momento in cui sostiene questa iniziativa che è assolutamente pregevole è fatta proprio dalla passione di chi è un amante della lirica in generale della musica in generale è proprio quello di diventare un punto di riferimento il tessuto culturale di Arcola quello che si vede meno ma che è quello importante è fatto di tante di tante esperienze che riguardano la musica non ultima l'indirizzo musicale del nostro istituto comprensivo quindi la scuola media che favorisce veramente lo studio all'avvicinarsi consapevole alla musica la possibilità di diffondere di essere un punto di riferimento per tutti coloro che sono amanti del bel canto ma non soltanto del bel canto l'associazione fotografica liberi di vedere invita la serata con l'autore Francesco Gola venerdì 24 febbraio alle 21 nella sua sede al centro civico sud del comune della Spezia in via del canaletto 90 l'ingresso è libero e gratuito appuntamento sabato 25 febbraio dalle 8 e 30 al carnevale dei belli e dei brutti a Suvero sarà itinerante e arriverà fino a Rocchetta Vara vediamo il servizio di Laura Evani a Sergio Di Offili siamo in pieno periodo di carnevale e conosciamo questa sera un carnevale assolutamente locale il carnevale di Suvero che torna questo sabato 25 febbraio una tradizione che continua grazie anche alla partecipazione di tanti cittadini che hanno tirato fuori queste maschere le cosiddette maschere dei belli e dei brutti che cosa rappresenta per Suvero questo carnevale è un carnevale antichissimo intanto questo carnevale si perde nella notte dei tempi è un carnevale che ha somiglianze con altri carnevali sardi delle zone balcaniche e che ricorda tradizioni antichissime pagane e quindi sono due le tipologie di maschere del nostro carnevale i brutti e i belli così chiamati i brutti sono maschere vestite di pelle con delle corni animali un po' dei satiri e hanno delle grosse campane ai fianchi e al suono di una conchiglia una lumaca girano nel paese facendo più confusione possibile e con questo suono scacciano il male l'inverno il freddo e aprono all'arrivo della buona stagione della primavera che è simboleggiata invece dalle maschere dei belli per così dire che hanno invece vestiti colorati variopinti dei cappelli addobbati con nastri con ninnoli colorati quindi è un carnevale molto particolare che si ricorda da sempre in paese e che rivive grazie all'entusiasmo anche di tantissimi ragazzi che danno vita a questa tradizione qual è il programma di sabato e ci saranno anche degli ospiti speciali Sì il carnevale tradizionalmente inizia la mattina con la visita a tutte le case sparse ai poderi fuori dal paese e poi nel primo pomeriggio dalle due e mezza le maschere arrivano in paese iniziano a girare casa per casa quindi chiunque voglia venirci a trovare nel pomeriggio a Suvero e poi quest'anno una grande sorpresa abbiamo ospite il carnevale di Fonni veniteci a trovare a scacciare il male col suono delle nostre campane come adesso qui facciamo per augurare a tutti poi una buona primavera e un buon carnevale Parliamo ancora di carnevale perché dopo il grande successo del carnevale di San Terenzo di domenica scorsa l'appuntamento torna questo sabato a Lerici il ritrove alle 14 alla Rotonda Vassallo dove sarà inaugurato il carnevale Lericino organizzato dalla Proloco con il patrocinio del comune e il sistema turistico locale prenderà il via dalla Rotonda la sfilata con il gruppo musicale dei Batte Balengo ci saranno anche le bancarelle e la pentolaccia qui seguirà la premiazione delle mascherine dei gruppi e in chiusura veniamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani sulla costa al mattino potranno verificarsi deboli piogge e al pomeriggio possibili rovesci o temporali il mare sarà generalmente mosso sotto costa localmente molto mosso al mattino a Levante le temperature oscilleranno tra una minima di 12 gradi e una massima di 14 gradi per questa edizione del TLS giornale questa era davvero l'ultima notizia grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tele Liguria Sud arrivederci